Incetta di medaglie per Caltanissetta grazie agli atleti della Polisportiva University ai campionati regionali di cumité svoltesi a Piazza Armerina, una manifestazione alla quale hanno partecipato 14 società sportive provenienti da tutta la regione. I 18 allievi del maestro Michele Nicosia, nelle gare appartenenti alle varie categorie di cintura, peso ed età, hanno dato prova delle loro abilità e maestria conquistando 10 medaglie d'oro, 5 d'argento ed uno di bronzo. Bene, è un risultato eccellente, i ragazzi sono carichi, sono pronti anche ad affrontare il campionato italiano del Monticatini, speriamo di fare ancora centro perché l'allenamento che loro praticano tutti i giorni, a parte il discorso del compattimento che è quello che è stato manifestato domenica, c'è il massimo controllo sulle applicazioni delle tecniche e tanta voglia di vincere. L'unica cosa che noi cerchiamo sempre di divulgare ai ragazzi, di fare uno sport sano, anche se praticano lo scontro fisico deve essere pieno di controllo e nello stesso tempo mirato alla crescita. Diciamo che la pratica del karate si collega prima con lo studio delle tecniche, che si chiamano Kion, poi Kata, che sono forme di tecniche da combattimento immaginari, la parte finale è il combattimento, tutto quello che è stato studiato prima viene applicato con l'avversario. Chiaramente se prima non c'è una preparazione a monte, come quella che ho detto prima, il combattimento non diventa più un combattimento ma una rissa alla strada dove c'è una tecnica sporca, dove c'è il poco controllo e dove si rischia di farsi male. Quando noi mettiamo i ragazzi ad applicare il combattimento lo facciamo solo quando sono sicuri di poter controllare i vari colpi e questo è un segno di crescita. L'autocontrollo è una delle regole più importanti per chi pratica karate. Una disciplina che grazie al progetto Etica nello Sport che si sta tenendo nelle scuole della città sta coinvolgendo anche più piccoli. Per ora nelle scuole elementari, grazie all'assessorato dello sport e all'assessore Angilella, questo è il terzo anno che pratichiamo karate nelle scuole, l'etica dello sport. Allora in questo momento sia io che la maestra Maria Russica insegniamo nelle scuole elementari la Leonardo Ciascia, la Vittorio Veneto, la Martin Luther King e la Don Milani, dove molti bambini sono interessati alla pratica del karate e anche lì nelle scuole visto che i ragazzi chiaramente praticano lo sport in maniera un po' così senza una buona guida perché purtroppo gli insegnanti di educazione fisica si trovano nelle scuole superiori. Allora noi diamo un indirizzo che è quello della pratica delle arti marziali ma nello stesso momento li prepariamo sul lato ginnico. La ginnastica è fondamentale. Poi tutto quello che insegniamo nelle scuole è la tecnica di karate trasformata in esercizio ginnico dove i ragazzi si divertono e crescono in salute.